Oroscopo di Seu Lunedì 11 novembre Ariete Il sistema migliore per trascorrere una giornata in tranquillità prevede che non vi impegnate nell'organizzare nuove attività che vi assorbirebbero ulteriormente. Portate a termine ciò che avete iniziato. Toro Date retta alla luna e accettate le proposte di amici e familiari. Incontro con amici di famiglia. Gemelli I single chattano a tutto spiano. Gli accoppiati chiariscano un malinteso. Serata rilassante. Cancro Il tuo rapporto sentimentale sta migliorando giorno dopo giorno grazie alla capacità di entrambi di renderlo allegro e frizzante. Gita in un paese. Leone Sole e luna dicono che sarà il vostro giorno. Buoni incontri. Vergine Il successo di un'iniziativa professionale dipende essenzialmente da come vi relazionate con i colleghi. Evitate di mostrarvi troppo rigidi e non sbilanciatevi nell'esprimere il vostro punto di vista. Bilancia Evitate di esprimere il vostro parere nell'ambito lavorativo specialmente al vostro datore di lavoro che potrebbe arrivare a conclusioni sfavorevoli. Scorpione Dolori allo stomaco Vi rallenteranno il ritmo nel corso della giornata. Vi sarà d'aiuto un disintossicante delle vie biliari. Sagittario Godetevi questa giornata perché presto una notizia sfavorevole vi travolgerà. Saprete risollevarvi. Capricorno Siate troppo lontani da realizzare i vostri sogni, ma con la vostra caparbietà riuscirete nel proposito. Acquario Il carattere da sognatori vi farà perdere il senso della realtà. Pesci Confidate ad un amico sincero e fidato il vostro problema. Ne troverete giovamento. Dimitri